Ciao a tutti ragazzi, allora vi devo anticipare una cosa, questo video in realtà era stato pensato in una maniera differente solo che dopo averlo registrato mi sono reso conto che era troppo, era un contenuto troppo ciccione e quindi ho deciso di dividerlo in due parti. La prima ve la porto adesso così riesco a farvelo avere durante la mia pausa pranzo la seconda appena finisco di lavorare stasera torno sopra, torno sull'editing e cerco di portarvi intorno alle 7-7.30 a seconda delle tempistiche che mi servono per concludere tutto il lavoro. Quindi mettetevi comodi perché questo è solo un antipasto in cui parliamo appunto di Ronaldo, Manchester City, di tutto quello che ha detto Di Marzio invece questa sera ci vediamo con un contenuto lungimirante che parte dal passato, si proietta nel futuro con uno studio un'analisi di tutte quelle che sono state le Juventus degli allenatori precedenti e dei processi mentali che poi hanno portato a determinate scelte per far vedere che potete probabilmente dormire sonni tranquilli oppure quel video vi preoccuperà a maggior ragione. Quindi eccolo qua, sigla e si parte Ciao ragazzi, benvenuti nel mio nuovo video. Oggi è mercoledì 25 agosto 2021, il che significa che mancano ufficialmente sei giorni alla conclusione del calciomercato e quattro giorni alla prossima partita della Juventus. Quindi oggi dobbiamo iniziare parlando di Ramsey che è infortunato, lo sappiamo starà fuori tre mesi quindi diventa invendibile in questi ultimi giorni del mercato quasi un'ufficialità 99.9% che Ramsey non lascerà la Juventus così come Kai Orge che oggi verrà presentato alla stampa alle ore 14, 14.30 alla continassa e che anche lui starà fuori circa un mese quindi la Juventus parte con un doppio errore di Scesni, parte con un doppio infortunio della durata di un mese per due calciatori e ha qualche questione legata al mercato, calciomercato in uscita dei giocatori che sono considerati importanti ma non incedibili della Juve. Su tutti Cristiano Ronaldo, Weston McKennie. Quindi questo è il primo approfondimento che facciamo della Juve senza dimenticare il pareggio a Udine dopo essere andati in vantaggio di due gole dopo averne subito i due. Quindi sicuramente una partenza in salita per Max Allegri sul ritorno alla Juventus e oggi vorrei focalizzarmi nella prima parte del discorso legato a Cristiano Ronaldo ma voglio veramente fare una chiacchierata molto 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 veloce e sbrigativa perché sinceramente di questo discorso mi sono anche stancato e credo di essere arrivato a una conclusione poi vedremo se sarà effettivamente così e in seconda battuta andare ad analizzare un po' quelle che sono state le Juventus degli allenatori, gli esordi degli allenatori con la Juve e di come hanno approcciato la prima partita e di come poi hanno evoluto il loro credo il loro modo di pensare. Stiamo parlando di Conte, Allegri, Sarri, Pirlo, Allegri. Quindi cinque allenatori in questi ultimi dieci anni di Juve ovviamente per Allegri è un ritorno però il suo nuovo esordio va considerato come tale appunto un nuovo inizio. Allora ragazzi c'è OneFootball qui sotto in descrizione per rimanere aggiornati su tutti questi discorsi di mercato che vi facevo prima per leggere le parole di Kaiorghe, per vederli allez delle partite, è completamente gratis, ve lo consiglio, sul vostro cellulare è un'applicazione del genere, è gratuita, non può mancare quindi vi chiedo di scaricarlo, il link è qui sotto in descrizione. Ieri sera Gianluca Di Marzio, potrete leggere anche su OneFootball, ha parlato di Cristiano Ronaldo e non ha chiuso le porte a una delle di Cristiano Ronaldo da Juventus. Ora vi riporto il suo discorso, per Cristiano Ronaldo c'è solo il Manchester City, il PSG ha anche se dovesse cedere Mbappé, tra l'altro la Madrid dovrebbe aver presentato un'offerta di 160 milioni per Mbappé, quindi molto probabile che possa andare, perché ovviamente va in scadenza, un'offerta del genere molto alta per un giocatore che va in scadenza, vedremo se il Manchester City, se il PSG deciderà di accettare o se ne fregherà dei soldi semplicemente e deciderà di tenere Mbappé, però anche in caso di uscita di Mbappé, il PSG non farà offerte per Cristiano Ronaldo, non le farà, non si muoverà nonostante il tweet del fratello, del cugino, dell'emiro, dello sceicco che vorrebbe insieme a Ronaldo Messi. Di Marzio chiude completamente la porta al PSG e invece la apre al Manchester City e dice che Mendes sta flertando appunto con Guardiola e con il Manchester City che però in questo momento non avrebbe la volontà di pagare il cartellino di Cristiano Ronaldo, ricordiamolo per la Juventus il cartellino di Cristiano Ronaldo è ancora a bilancio con ammortamento pari a una cifra che parte dai 25 fino ai 28 milioni, quindi il range per strappare Ronaldo e la Juve ora è tra i 25 e i 30 milioni, un'offerta del genere se Ronaldo l'accetta la Juve l'accetta, Ronaldo parte e tutti a posto. Il City però per fare la fonda a Cristiano Ronaldo dovrebbe prima vendere Sterling, ma non ci sono al momento offerte soddisfacenti per l'attaccante inglese. Tra l'altro a Juventus sarebbe disposto ad accettare uno scambio tra Cristiano Ronaldo e Gabriel Jesus, che però in questo momento al Manchester City considerano incedibile, quindi la situazione è questa, Ronaldo vorrebbe andare via, sarebbe disposto ad andare al Manchester City nonostante i trascorsi al Manchester United, il City è interessato ad acquistare Cristiano Ronaldo che costa meno di Harry Kane per il quale avevano offerto 150, 160, 180, ormai si sono persi i conti dato che sono altissimi, ma il Tottenham al momento non ha ancora accettato, per Cristiano Ronaldo sono disposti a spendere zero e non sono nemmeno disposti a cedere Gabriel Jesus nello scambio. Quindi mi viene da dire, come possiamo andare avanti a parlare di questa trattativa? C'è la Juve che lo cede, sì va bene, ma tra i 25 e i 30 milioni, gli altri offrono zero. La Juventus viene incontro chiedendo un giocatore, loro non lo vogliono dare, con tutto il rispetto per Cristiano Ronaldo che ha tutto il diritto di voler andare dove vuole, o mette i soldi lui, o ci dà 30 milioni di euro e si compra il cartellino da regalare al Manchester City, che tra l'altro non si può nemmeno fare in Italia, oppure il City decide di venire incontro a Juventus accettando lo scambio, oppure il City dà 30 milioni a Juve, se no non se ne fa niente, è inutile che stiamo qua. Il City, ora abbiamo un nome e un cognome, perché tutti questi discorsi su Cristiano Ronaldo che vi dicevo non sono sicuro che rimarrà, erano basati sul sì ma chi lo prende. Adesso ci dicono che c'è una e una sola squadra su Ronaldo, il City. Quello è tra virgolette il nemico. Se il City accetta le richieste della Juventus, è probabile che Cristiano Ronaldo lascia la Juventus. Se il City rimane fermo sul ti do zero euro e non ti do Gabriel Jesus, allora Cristiano Ronaldo è un giocatore della Juve, rimarrà un giocatore della Juve fino a scadenza di contratto e poi Ronaldo potrà fare le sue valutazioni dal prossimo anno al 30 genio del 2022, nessun problema, ma per quest'anno giocherà per la Juve. Quindi provo a riassumerlo in questo modo, perché se poi la Juve accetta a rivenderlo a zero, allora siamo nel campo neanche della follia pura. Non voglio neanche prendere in considerazione un'ipotesi del genere. Quindi questa è la situazione di Cristiano Ronaldo. Finita? La lasciamo lì. Per quanto riguarda invece gli esordi degli allenatori della Juventus, c'è da fare un bel discorsetto. Aggiungo sulla fine, dato che, ripeto, stasera avrete la seconda parte di questo video, che c'è un problemino legato a Juventus-Napoli, anzi Napoli-Juventus, poiché tutti i giocatori sudamericani, quindi Argentina-Brasile, Uruguay, Colombia, insomma tutti i giocatori della Juventus che potrebbero essere potenzialmente convocati per quelle partite lì, e quelle partite lì si giocano qualche giorno, se non un'ora prima di Juventus-Napoli, di Napoli-Juventus, e che quindi la Juve potrebbe ritrovarsi senza tanti giocatori importanti, tipo Tutti Terzini, Quadrado, Alessandro Danilo, tipo Bentancur, tipo Dybala, tipo insomma dei giocatori che alla fine iniziano a sentirsi. La Liga Spagnola ha già diramato un comunicato che dice che per salvaguardare la competizione le squadre sono invitate a chiedere ai giocatori di rifiutare la convocazione, io spero che succeda la stessa cosa in Serie A, perché purtroppo una partita così di cartello, rovinata da una roba del genere, potrebbe essere un problema. Colgo l'assist che mi sono fatto da solo per arrivare a parlare di Ossiman, che ha ricevuto due giornate di squalifica e già si grida al complotto. Alla prima giornata di campionato già si grida al complotto. Poi io mi auguro che il ricorso possa togliere una giornata Ossiman e che possa essere in campo in Napoli-Juve proprio perché non voglio che manchino i miei, non voglio che manchino anche quelli degli altri. Però gridare al complotto dopo una giornata è qualcosa di vergognoso. Signori ci vediamo questa sera, se siete interessati ad avere questo video vi chiedo di farvelo sapere qui sotto nei commenti perché è stata una bella idea, purtroppo le tempistiche costavano.